Dopo un incontro di questo genere, il suo cuore cosa le suggerisce dopo questo calorosissimo incontro? Più di tutto è un ringraziamento, io sento nel mio cuore, davanti a Dio per lo spirito che si sta creando tra questi carismi della storia che stanno convivendo adesso più insieme, da 50 anni, che la UISG lavora insieme e costruendo un clima in questa direzione del valore della comunione che noi sentiamo con il Beato Papa Giovanni Paolo II come criterio della formazione dell'uomo e della donna in questo nuovo periodo. Non solo dei consacrati e delle consacrate, ma dell'uomo e della donna e lui dice non solo dentro la Chiesa ma anche l'umanità. Cioè se noi non ci accorgiamo che la comunione è importante, noi manchiamo all'umanità. E questa cosa bisogna tener conto, io qui ho sentito questa cosa tanto nella Messa che abbiamo celebrato insieme come in questo dialogo. E ho anche capito che anche i problemi più grossi, più difficili, come per esempio adesso che dobbiamo commentare tutta la questione della leadership degli Stati Uniti, della LCWR, cioè non è solo una questione diciamo noi abbiamo la ragione, loro non hanno la ragione, ma è credere che è possibile ritornare a un dialogo che non è stato fatto prima. Cioè le posizioni sono molto diverse, c'è anche un programma da essere compiuto, però non bisogna escludere. Io penso che bisogna arrivare a trovare cammini, delle strade da fare che dobbiamo fare. E queste strade sono sempre nel senso di dare valore all'uomo e alla donna. Io penso che c'è tanto da fare per questo. Io torno a casa molto felice. Ecco, il valore del costruire la comunione è stato proprio un concetto che ha ripetuto più molto. È essenziale. Come si può tradurre concretamente per il presente e futuro proprio di questo cammino di comunione? L'altro non è un ciampo per me. Cioè quello di Giovanni Bergman è molto bello, no? Che la mia massima penitenza è la vita comune, no? Però non basta, è molto poco. Cioè l'altro non può essere solo un impedimento a me, un limite a me. L'altro mi pone delle difficoltà, certo, perché è diverso da me, ma l'altro, noi stiamo scoprendo adesso con la spiritualità di comunione, che è l'opportunità per entrare nel cuore di Dio. Cioè io ho bisogno dell'altro per entrare nel cuore di Dio. Perché Dio è amore. Se io non amo, io non entro in Dio. Cioè non basta solo la ragione per entrare in Dio. Tanto che per la ragione molti non arrivano a Dio. Però vivono dei valori che sono di Dio. E lo vivono, lo vivono. Cioè in questo senso bisogna ritornare a un'esperienza d'amore in cui l'altro è importante, sia uomo sia donna. E non importa di quale continente né di quale razza. Importa che sia uomo che sia donna. Cioè lui per me è necessario, la relazione è necessaria, non è secondaria. Ha detto anche i soldi e le strutture non danno la felicità. Lei vede che in questo ci sia veramente un'attenzione esagerata. Cioè voleva puntare il dito su un problema autentico di questa fase storica. Io nemmeno direi che i soldi sono molti o pochi. Perché in verità noi alle volte abbiamo bisogno di molti soldi per certe strutture molto complesse e molto anche care. E bisogna entrare in questo. Una di queste è la comunicazione che veramente esige tanto. Però il problema non è questo. È che i soldi o servono a Dio o Dio deve servire ai soldi. Questo non è possibile. Cioè se i soldi servono a Dio, cioè servono alla comunione, siano benedetti tutti i soldi possibili. Però se non servono a Dio, se sono ammucchiati, noi troviamo delle congregazioni che hanno dei milioni ammucchiati per curare cinque suori che stanno per morire. Perché? Dove vanno questi soldi? Qualcuno lo prenderà. E perché non serve alla comunione? Già non serve più a quella struttura, ma può servire a un'altra. Perché non siamo abituati a fare questo. Io ho visto già cose molto belle in questo senso. Congregazioni, ordini che hanno messo a disposizione anche di più di quello che potevano. Questo è bellissimo. E qui, l'abbiamo avuto nella storia, adesso non ci serve più, è vostro. Vi serve? E questo è bello, no? Cioè le strutture, i soldi, devono entrare in un concetto nuovo. Cioè questo concentrare, questo produrre concentrare del capitalismo solo uccide la persona. Noi abbiamo bevuto troppo questo. È entrato un individualismo che non dà più il senso a che servono i soldi. Servono a moltiplicare la vita di tutti e a dare una vita di dignità. Però io che dico queste cose, ho tante maniere che sono così, che devo cambiare. E l'altro mi aiuterà, anche in questo senso. Per esempio, chi di noi capisce come i fondatori che la provvidenza è la prima fonte di sostegno di una comunità? Noi pensiamo al conto della banca prima. Pensiamo ai soldi che riceviamo nel nostro lavoro. Ma non alla provvidenza. E invece i santi dicevano così, quando non abbiamo nessun soldo tra di noi, adesso siamo disponibili per la provvidenza agire. E la provvidenza agiva. E questo dobbiamo fare, questi passaggi. Non è inutile, perché altrimenti noi blocchiamo il Vangelo. Non perché il Vangelo ha perso la forza. Perché noi abbiamo messo una cosa lì tra le ruote che non passa. deve far pensare a tutti quelli che hanno potere nella Chiesa a ripensare il modo di agire come potere. Bisogna ripensare. Le madri generali, i padri generali, i cardinali, i vescovi. Com'è il nostro potere? È un potere vero o è un potere di dominazione? È un potere autentico o è di noi, diciamo, ci omettiamo davanti ai problemi? Cioè, siamo padri veramente, andiamo dietro, diamo la vita? Com'è? E questo mi sembra che la posizione di Benedetto XVI è stata molto forte in questo senso, no? Perché ha detto che non conta un potere enorme. Conta il Signore in mezzo a noi che dirige i nostri passi. E Francesco sta mostrando lo stesso. Cioè, lui non vuole essere solo un uomo di potere che sta lì. Cioè, ma vuole costruire qualcosa insieme. E lo dice questo, lo fa così. E ha dei ditti. Cioè, questo tutto ci dà un'anima molto grande. Abbiamo una speranza fortissima. In sala ha detto, siamo solo agli inizi. Io penso di sì. Ecco, cosa si riferiva? Questa è una frase che aveva dietro un... Io non sono profeta, non sono un calcolista, però io sento una cosa, che il Papa non fa un programma e non rappresenta un ruolo. Lui è. Basta dire così. Lui è questo. Cioè, uno che è non cambia. Cioè, un po' di più.